La promessa anticipazioni. Cosa sta realmente accadendo alla promessa? Quali segreti e tradimenti si nascondono dietro la drammatica battuta di caccia che ha messo in pericolo la vita di Curro e Feliciano? Il mistero si infittisce e le domande crescono. Ma prima di continuare, se vuoi rimanere aggiornata e ricevere in anteprima i video della promessa, scrivi sì nei commenti. Ricominciamo. Don Lorenzo ha davvero finto un dolore insopportabile alla sciatica per non partecipare alla caccia, o dietro questa scusa si cela una trama più oscura e sinistra? Mentre i colpi di fucile risuonano nell'aria, qualcuno sembra orchestrare tutto nell'ombra, e le conseguenze saranno devastanti per gli abitanti della tenuta. Curro e Feliciano, ignari di essere sotto il mirino di un cecchino, vengono colpiti in pieno da due spari che lasciano entrambi in fin di vita. L'atmosfera si fa subito tesa e drammatica. Don Alonso, in preda al panico, ordina a Manuel di chiamare il dottor Sandoval per soccorrere i feriti. Mentre i secondi scorrono, Petra, tra le lacrime, convince Cruz a far operare Feliciano da Sandoval, che procede con un intervento crudo e rischioso. Ma la situazione non si risolve così facilmente, perché il destino di Curro è appeso a un filo. Sandoval, dopo l'operazione su Feliciano, rivela di non poter curare anche Curro, suggerendo di portarlo in ospedale. Ma Abel si oppone fermamente a questa decisione, pronto a lottare per la vita del giovane. La promessa diventa il teatro di una lotta per la sopravvivenza, con intrighi e scelte difficili. Don Lorenzo, apparentemente preoccupato per suo figlio, prende la decisione di lasciare Curro nelle mani di Abel, ma dietro il suo atteggiamento premuroso si nasconde un altro piano. Di nascosto, continua a tramare con Cruz per liberarsi del ragazzo una volta per tutte. Abel, nel frattempo, decide di tentare una trasfusione di sangue per salvare Curro, coinvolgendo tutti gli abitanti della tenuta. Dopo aver raccolto i prelievi, scopre che solo Yana è compatibile. La cameriera, già debole e provata, si sacrifica ancora una volta per la vita di Curro, diventando una pedina chiave in questa drammatica vicenda. A questo punto, il dramma si fa ancora più intenso. Yana, debilitata dalla trasfusione, insiste per restare accanto a Curro, ma Manuel la convince a riposarsi, affidandola alle cure di Vera. Grazie al sacrificio di Yana, Curro inizia a riprendersi, e Abel decide di operarlo immediatamente. Trasforma la camera del giovane in una sala operatoria improvvisata, mentre Manuel corre a cercare i medicinali necessari. Ma c'è un problema. L'etere per l'anestesia è introvabile. Senza alternative, Manuel decide di prendere l'aereo per procurarselo, e Yana, sempre al suo fianco, gli chiede di accompagnarlo in questo viaggio rischioso. Nel frattempo, alla tenuta, il sospetto inizia a serpeggiare. Don Romulo turbato dagli eventi, inizia a fare domande su quanto accaduto durante la caccia, cercando di ricostruire la dinamica degli spari insieme a Pia. I due concordano sul fatto che qualcosa non quadra. C'è qualcuno che manipola la verità? Forse il conte stesso? Cruz, intanto, rimprovera duramente Don Romulo per aver osato sollevare dubbi, mentre Martina, preoccupata per Curro, cerca di alleviare la tensione portando un grammofono nella sua stanza per distrarlo con la musica. Ma mentre la giovane cerca di farsi forza, non può nascondere i suoi veri sentimenti. Finalmente confessa a Catalina di essere innamorata di Curro, gettando un'ombra di incertezza sul suo futuro. E ora tocca a te. Cosa pensi che stia davvero succedendo alla promessa? Chi credi sia dietro questo intrigo? Lasciaci un commento con le tue teorie e facci sapere cosa pensi che accadrà nei prossimi episodi. Siamo curiosi di sentire la tua opinione. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Cruz e Don Lorenzo sperano in segreto che l'operazione di Abel fallisca e che Curro non sopravviva. Le loro macchinazioni potrebbero finalmente liberarsi di un rivale scomodo. Mentre tutto sembra andare verso una conclusione tragica, il risveglio di Curro tarda ad arrivare. La quantità di etere usata durante l'intervento è stata eccessiva. E ora la sua vita è appesa a un filo. Riuscirà Curro a superare quest'ennesima prova? O i suoi nemici avranno la meglio? Nel frattempo, Feliciano sembra stare meglio dopo l'operazione. Ma un improvviso malessere getta di nuovo tutti nel panico. Teresa, spaventata, corre da Iana chiedendole di visitarlo. Ma Abel è troppo impegnato con Curro per poter intervenire. La tensione nella tenuta è alle stelle e tutto sembra crollare sotto il peso dei segreti e dei tradimenti. Non perderti i prossimi colpi di scena. Le risposte sono dietro l'angolo e la verità è pronta a emergere. Resta sintonizzato sul nostro canale per scoprire cosa accadrà alla promessa. Gli intrighi, i tradimenti e le rivelazioni scioccanti stanno per cambiare tutto. E tu non vorrai mancare il prossimo capitolo di questa storia.